Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Dove siamo oggi? Oggi siamo su Wasteland 2. Ho deciso di portarvelo perché nell'ultimo mese ho cercato disperatamente un gioco di ruolo che potesse prendermi, avendo già finito tutti i mostri sacri del genere, ho deciso di provare questo gioco, ve l'avevo già portato forse anni fa addirittura. Questa è la versione Director's Cut, cioè la versione un pochino migliorata che viene data in automatico, credo che ora sia in vendita solo questa. È un gioco un po' particolare perché lo avevo giocato dopo aver fatto una ventina di ore in una settimana, tantissimo, a Pillars of Eternity ed ero un po' perplesso da quel gioco perché l'ho trovato molto tedioso. Il combattimento è difficilissimo, non ci sono queste grandi indicazioni, in pratica non riuscivo a far danno, ho dovuto giocarmelo quasi gran parte a difficoltà minima, quasi solo racconto e non mi dava soddisfazione. Allora ho provato questo gioco, ve l'avevo già portato, poi ovviamente non fate affidamento a quel video perché comunque è vecchio, sono cambiate alcune cose, forse anche a livello grafico è cambiato, che ho trovato è cambiato anche il livello dell'italiano che è migliorato parecchio. E la cosa che mi ha fatto storciare il naso è il fatto che all'inizio dovete crearvi voi personaggi o prenderne già confezionati. Quindi io li ho fatti e sono a circa, adesso io non ricordo quante ore, ma ne avevo fatte due o tre, insomma ho fatto già le prime missioni. E vi voglio presentare quello che è la parte attuale delle persone che ho qui. Si può arrivare, mi pare, un massimo di sette, quindi questi sono quelli che io ho creato, per questo più significa l'aumento del livello, quindi lo andiamo a vedere. Dove ci troviamo in questo momento? Siamo in un impianto di, diciamo, dell'acqua, insomma un acquedotto, un purificatore d'acqua, di un villaggio in una zona di high pool della mappa. Se vi ricordate, se avete visto quel video, ci si muove sulla mappa basandosi, diciamo, su delle scorte d'acqua in mezzo al deserto, quindi bisogna fermarsi nelle oasi, evitare i perdoni che si possono incontrare casualmente qui. Arrivati nella zona si carica la mega mappa, abbiamo dovuto battere, io adesso non vi spoilerò nulla, però, insomma, abbiamo battuto un po' di persone e lo sto giocando facile, perché è tosto abbastanza, ma non è così punitivo. Poi magari una volta che diventerò un fanatico, anche perché ci sono tante scelte da fare, insomma, tante cose da poter fare. E tanto da leggere, ecco, una premessa. Questa telescrivente ci descrive ogni volta, vedete, se io esamino la porta, ci dà la descrizione dove andremo a breve. Allora, intanto noi possiamo andare di qua, non andiamo di qua, noi siamo arrivati da qui, il mio senso d'orientamento, quindi dobbiamo attraversare di qua o qua. Quindi con un F9 facciamo un save, velocissimo. Vi faccio vedere i personaggi. Allora, vediamo, allora, iniziamo dal primo, l'ho chiamato Gareth, ovviamente Gareth è ispirato, ho dato dei nomi per capire chi è ogni volta. Il ladro, in pratica il ladro è quello un pochino più abile dalla distanza, infatti gli ho dato un fucile a cerchino e come secondario è un pesta-barboni, lo chiamano così. Una pistola qua in caso dovesse servire. Qua vedete tutta la sua armatura. Il personaggio ha delle abilità, potete scegliere l'età, l'etnia, se fuma, che marca fuma, quant'acqua, i suoi punti abilità qui. Vedete che adesso è appena passato di livello, quindi può metterne tre e ovviamente qua mi costa quattro per aumentare. Queste sono quelle che ho e queste sono quelle che posso ancora prendere. Ci sono le abilità di combattimento, quindi si fa tutta la gestione delle armi corpo a corpo, tutti i tipi di armi appunto, dalle armi pesanti, mitraliette, fucili a cerchino. Le conoscenze, quindi le conoscenze mediche di demolizione di informatica meccanica, medico da campo, riparare i trastapane, che qua si incontrano i trastapane ogni tanto si possono riparare. Lui ha essenzialmente fucili a cerchino, armaiolo, aprire le serrature, armi da taglio, per eccezione aprire le casse forti. Io voglio aumentare comunque aprire le casse forti a livello 2. O le serrature. Wow, vediamo. E poi i talenti. In pratica si possono ogni tot livello aumentare i talenti e aggiungerne uno. Però sono molto tosti, perché alcuni sono veramente... hanno dei malus. Insomma, qua ce ne sono tanti, ma non perdiamo tempo perché continuo a farvi vedere i personaggi. Abbiamo Weapon. Weapon mi ispiro a Alien. Arma pesante, quindi a fucile d'assalto è qua un'altra arma pesante. Vabbè, poi lui è... fuma. Ha ucciso 13 persone finora. Fucile d'assalto a livello 4. Potrei alzargli a livello 5. Oppure potrei aumentargli l'altra che gli manca, che è armi pesanti. No, cos'è che era? Armi pesanti, sì, perché gli ho dato anche un'arma pesante, oltre che il fucile d'assalto. Però non lo so, ma lo vorrei giocare un po' meglio lui. Vorrei magari aumentargli il armaiolo, in modo che... Ok, lo faccio così a livello 2 può potenziare il talento aspetto. Full Metal Jacket. Più uno alla penetrazione quando usi fucile d'assalto. Ok, dai, gli do questo, così almeno faccio più danno. Va bene, abbiamo potenziato lui. Jatia Bashir, che è un mix tra due personaggi di Star Trek. Insomma, è il medico. Fucile a pompa, pistola. Lei è bravissima a fare medico da campo. Chirurgo, quindi può fare delle operazioni se i nostri personaggi sono messi male. Fucile a pompa aduto per forza, perché se no non faceva niente. Amico degli animali può, diciamo, interagire con animali, quindi dissuaderli dall'attaccarci. E ultimo, ma non ultimo, è Steve Gates, che è l'informatico, ovviamente. L'americano, con informatica, meccanico, disattivare allarmi, riparare trastapane, aprire serrature. Insomma, è un figo. E al momento io non li potenzio nulla, perché adesso stiamo esplorando. E in sintesi qui è quello che succede. Adesso, riprendiamo il nuovo fenomeno, li salviamo, andiamo avanti. Dobbiamo trovare delle valvole. Qua esaminiamo, c'è un sacchetto di immondizia già, c'è forse immondizia. Apriamo, c'è dentro una tessera della biblioteca che prendiamo e dei pezzi di metallo. Adesso li distribuisco un po' a tutti in modo da non appesantirli troppo. Andiamo avanti. È un vero gioco di ruolo questo, perché comunque c'è da leggere. È un po' come se ci fosse un master, ma devo dire che dà anche discrete soddisfazioni. Lo sto trovando migliore di incredibile. Pillars of Eternity. Che era veramente tedioso, anche come storia, tutto basato sul mistico. Qua no. Ok. Possiamo usare... Attenzione. La pressione sta avendo ampie scelazioni nella sezione. Ok, praticamente dobbiamo installare un pezzo di ricambio. Questa è una cosa veramente molto interessante, perché qualcuno di loro dovrebbe avergli fatto prendere un pezzo di un oggetto, insomma, una valvola. Vediamo se l'ho presa o se l'ho già usata. Eccola qua. Cliccandoci col destro possiamo fare usa. La usiamo, vedete, la prendo in mano, ce l'ho sul mouse e la inserisco qui. Quindi il più esperto a fare queste cose prende il comando e va e fa. Anche quando scassiniamo, quando facciamo tutto. Vedete, adesso abbiamo attivato. Si sono accese altre luci. Perfetto, abbiamo attivato la seconda pompa. Ce ne sono quattro da fare, quindi insomma ne abbiamo fatta un'altra. E sta andando tutto secondo i piani. Quindi un altro save. Lo facciamo magari poi via. Vi farò vedere il combattimento. Ci sono tanti dialoghi, tante cose da leggere. Con il tasto Z poi potete andare a vedere tutte le zone interagibili. Dobbiamo sempre tenere in considerazione che il cecchino non fa danno da vicino. Quindi bisogna sempre pensare a tenerlo lontano. Un po' a confusionare la mappa perché qua non si capisce subito dove siamo. Perché ci sono questi nomi qua. Ma comunque siamo qui. Ogni tanto arrivano anche queste news da altri posti. E quando passiamo di livello dobbiamo chiamare la cittadella. In particolare c'è l'ordine dei ranger. Che siamo noi ranger, insomma che sappiamo la popolazione. E ho scoperto che in questa zona, in questa base, non specifico qui, in questa regione. Non sono visti di buon occhio perché hanno ucciso un bambino in pratica negli anni scorsi. Ok, si inizia a combattere. Adesso possiamo fare la prima mostra andando a sparare. Magari con qualcuno che fa il cecco da lontano. Vedete che è il 63% di colpirlo. Ok, gli abbiamo già fatto un buon danno. E inizia, tutto inizia. Con il tasto G si inserisce anche questa griglia che è quasi impercettibile. Però noi inseriamola. Inizia il cecco. Quindi il cecchino direi che andiamo a spianare lui prima. 63, ok. E a questo punto possiamo muoverci ancora usando i due punti residui di movimento. Perché ci si muove con i punti azione. Quindi facciamo questa cosa. Lo portiamo lontano dall'azione. Purtroppo però viene preso di mira subito. È un po' come lo sapessero che il cecchino è quello che fa meno danno da lontano. Comunque, a questo punto tocca al... Attenzione però. Garrett, cos'è che ha? Sotto pressione. Eh sì, infatti. Infatti lo sapevamo già è quello che stavo dicendo. Allora abbiamo Weapon che è con la sua arma principale. Che è il fucile d'assalto. No, è l'assalto questo. Spariamo col 56%. Ho l'81 di colpirlo. Però c'è il rischio anche di colpire Giazzia Bashir. Però insomma andiamo a salvare il cecchino. Perché insomma è giusto che... Oh mannaggia. Mancato. Vabbè, pazienza. A tra i punti ce li teniamo per il prossimo turno. Giazzia, che ho equipaggiato da poco con un Canemozze, direi che ha un 70% di far del danno. Vedete che qua è andato a colpire anche lui, anche Garrett. Quindi facciamo con il 70%. Uh, la preppa. Ok, è scarica perché ho sparato un colpo prima. Quindi io potrei pensare anche di ricaricare. Ma servono 5 punti di azione. Quindi mi tengo questi due a mio rischio e pericolo. Intanto abbiamo un Steve Gates. Ovviamente non vi devo dire chi è ispirato. Che ha dei colpi ancora nella pistola. Nel vecchio revolver della marina. Quindi direi che spara. Beh, va bene. Insomma è più bravo con il compito. E fa un bel danno comunque, devo dire. Sono praticamente tutti qui. Ora ci pigliamo. Vedete che lui finisce. Allora tocca a Garrett adesso. Perché poi tocca a loro. Quindi, sì, tocca a Garrett. Garrett non fa un gran danno. Anzi, non può assolutamente colpire. Si può pensare di colpirlo con questo. 27% di colpire. Anzi, magari facciamo una cosa. Attacchiamo lui. Vediamo se ce la fa. 20% per colpire. È sotto pressione. Magari qua non è più sotto pressione. Fa 65. Direi che proviamo. Ok, e lo uccide. Quindi a quel punto ne resta solo uno che manca. No. Sì. Lui ha un colpo di fortuna in questo momento. Perché ha un punto azione in più. E direi che essendo ormai quasi morto. Direi che non... No, spacchiamo munizione. Perché le munizioni sono ovviamente contate. Temporeggiamo in modo... Beh, la pistola... Una pistola ce l'ha inceppata. No, dai. Gliela facciamo chiudere così con un colpo di pistola. Che ce lo possiamo permettere. Una volta finito vengono distribuiti i punti abilità. I punti, scusate. I punti di esperienza. E poi si va e si luta ogni... Ogni cosa. Sono tutte cose. Ripartisci tutto. Così almeno lo divide tra tutti. Allora abbiamo... Terzo Z. Interagibile. Quello. Quindi direi che la terza manopola l'abbiamo appena fatta. Ci siamo quasi. Intanto ci comunica via radio appunto che... Ci manca l'ultima valvola e l'acqua è riattiva. Nuovamente. Quindi abbiamo sistemato. L'altra cosa interessante ve la sto per far vedere perché... Abbiamo una cassa. La esaminiamo. Ci dice... Esaminando attentamente la cassa, Garrett, che è già l'esperto, viene già preso in automatico, Ha trovato una serratura. Spesso escono anche più scelte. Spesso escono disattiva allarmi. Serratura, cioè il dischetto, quello da 5 pollici, quindi è una serratura informatica. A volte è questa. Una volta l'ho aperta, insospettito, ho usato il disattivo allarmi che probabilmente aveva una trappola o un sistema d'allarme. 78% di possibilità di riuscire ad aprirla, la proviamo. Se falliamo, c'è la possibilità che fallendo ci sia un fallimento critico. E col fallimento critico la serratura, ad esempio, si rompe. Quindi se non abbiamo qualcuno in grado di rompere fisicamente la scatola, non la pariamo più. Abbiamo la falce, che è un'arma da taglio molto comoda, perché io credo, adesso andiamo a vedere subito, mi ricordo, avevo dato armi da taglio a qualcuno di loro. Forse a Garrett? No, forse... Eccolo qua, infatti, infatti. Quindi dall'inventario prendiamo l'arma da taglio e gliela diamo a Garrett. Garrett quindi ha una seconda arma che gli si confa di più. È un falcetto. Perché è capace di usarla. Va bene, molto bene. Direi che stiamo andando anche discretamente bene. Il gioco va avanti e deve divertire. Non deve essere di una difficoltà asfissiante, perché se no non ci si diverte. Allora, andiamo avanti di nuovo. Ripeto, il gioco mi sta piacendo. Ha un'ambientazione che mi piace. Comunque è un post-apocalittico. Il gioco di ruolo. E spesso, dopo aver finito tutti i grandi classici, bisogna ingegnarsi e trovare dei titoli validi. E questo, secondo me, è uno di quelli. Non so dire ora se lo finirò, perché io sono una persona molto humorale e magari non mi viene l'ispirazione di finirlo. Però, salviamo. Eccola qua, l'ultima. Ok. Io direi, Garrett, hai una buona possibilità di colpire. Direi che colpiamo... Qual è il primo che è più isolato, lui? Vai. Ok. È già morto. È morto proprio sul colpo. Ora, Garrett ha... Ok. Ha ricaricato. Non può sparare, credo. Però... Si può muovere qui. Quindi lo spostiamo lontano. Bene. Infatti lui va su weapon e lo attacca. Non gli fa praticamente molto. Ho trovato anche un'armatura, gliel'ho montata. Ce l'ho fatta indossare, gliel'ho montata. Altra cosa che si può fare è farli abbassare, accovacciare. Alcune armi, comunque alcune cose, vanno a migliorare la percentuale dei colpiere. E soprattutto possiamo impostare l'imboscata. L'imboscata che è qui funziona come su XCOM. Quindi se lui sta fermo, passa il turno. Se gli passa qualcuno davanti, si alza e spara. Allora, abbiamo quest'arma qui che è ancora carica. La mira libera funziona così. Se io clicco qui e voglio sparare a un oggetto qua o a una direzione dove non c'è niente o anche solo dove c'è una cassa, magari una cassa di esplosivi, e lo posso fare. Allora, io adesso faccio un passo indietro. Vediamo se... No, 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 no. Niente, facciamo così. Io mi sposto qua in modo che attiro magari la loro attenzione. Lei ha tutto scarico, quindi direi che gli faccio ricaricare il fucile a pompa. Sì, ricarica, ricarica. Ok, il cane mozza. E la circoliatura qui. Lo lascio proprio in pace da Gareth, che non deve essere preso alla sua vista. Allora, abbiamo la revolver di Steve. Direi che la revolver fa molto male. Infatti riesce a fare due colpi, forse anche tre. Sì, ma deve ricaricare, quindi non può ricaricare. Va bene, abbiamo il nostro amico cecchino che può sparare. Abbiamo visto che ha ucciso sul colpo. C'è la percentuale anche di critico, quindi... Eccolo lì. Va bene, ha mancato e glielo perdoniamo. E adesso subiamo il danno di questi scarafagioni. È il primo. Infortunatamente ci lasciano in pace. Ok, allora, abbiamo il nostro eroe qui, che potrebbe colpire. Non capisco perché non colpisca con... Deve stare più lontano ancora. Non lo so, vediamo cosa dice qui. Bisogna fare attenzione anche alla leadership, perché se comunque noi diamo un ordine di fare qualcosa, la leadership della persona non è alta, fanno quello che ce ne hanno voglia. Allora, va bene, dai, proviamo un quarto di possibilità di colpire questo. Proviamoci, vediamo cosa succede. Colpisce una scarafaggio provocandogli 9 punti danno, fracassando la sua chitina e schiacciandolo come non è certo che è. Vedete, è ricco come descrizione. Fucile a pompa, vediamo se possiamo colpire qualcuno dietro. Direi di no, forse no. Oh oh, niente, peccato. Vabbè, intanto abbiamo il nostro amico qui con la revolverone che potrebbe fare un buon lavoro. Infatti, 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 basta, sparato, è finito. Il cecchino 63%, ok, e svolge completamente il suo lavoro. E sotto vedete che c'è questa barra gialla, è l'esperienza, quindi a breve si sale di livello. Ci sono tre modi di, come si dice, di convincere la gente, di persuasione. Vi faccio vedere quali sono. Ce ne sono diversi, diversi al paroci, ecco. Le abilità sono queste. Paraculo, spacca culo. E lecca culo. Insomma, c'è culo in tutto. Più altre due che non so cosa siano. In pratica, il paraculo è il classico sviare la conversazione, insomma, o comunque rigirare la cosa a proprio vantaggio. Questa è l'intimidazione, e questo invece è proprio andare addosso e dire, ma tu sei molto bravo, insomma. Non ho un vero e proprio leader al momento, però in pratica quando avremo compagni PNG con un'alta leadership riusciremo a fargli fare quello che vogliamo. Allora, abbiamo l'ultima cosa da aprire, e insomma, abbiamo fatto, abbiamo finito. Perfetto, ce l'avete fatta, l'ultima cosa da fare è aprire la valvola principale, sì, che dovremmo averla. Qua abbiamo il diario, quindi vedete tutte le cose, le missioni in corso che abbiamo. Ce ne sono, sono anche fatte piuttosto bene. Ora dovrò studiarmi come mettere i talenti, però in pratica non è male, perché adesso io vi ho fatto vedere tutto com'è qua dentro. In realtà vi faccio vedere, magari andiamo in questa direzione, magari riesco a farvi vedere com'è fuori l'ambiente qui che mi trovo. Adesso vediamo un po', vediamo se ci si riesce ad arrivare abbastanza agilmente, perché alla fine gira tutto in tondo, quindi abbiamo fatto proprio tutto un giro abbastanza articolato. Dovremmo esserci, infatti, qua è dove eravamo all'inizio, siamo arrivati da qui. Sì, infatti, infatti. E manca da tirare l'ultima cosa che è qui, ma non lo farò perché voglio farvi vedere com'è i pull. Andiamo all'aperto, insomma. E' un gioco che sicuramente si presta per decine e decine di ore, devono piacerevi questi giochi. Un po' sul vecchio stile, alla fine, perché, vedete, questa è la zona, qua ho dovuto fare una battaglia. Siamo saliti, abbiamo scalato questa montagna, alla fine qui c'era un ascensore che ci ha sollevato sulla cima delle mura che proteggono la città. E al momento siamo qui dove stiamo rimettendo a posto la linea elettrica e la linea dell'acqua, le condutture, le tubature, in pratica. Che è comunque tutto distrutto perché c'è stato anche una sorta di bombardamento. Questo era Wasteland 2, la versione da Rector's Cut. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, se avete apprezzato questo revival, chiamiamolo così, piuttosto che, data la moria di giochi nuovi e interessanti, io ho optato per farvi vedere qualcosa di, tra virgolette, vecchio. Fatemi sapere e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao! Ciao!